La dieta mediterranea conquista le Nazioni Unite, protagonista assoluto il Cilento con Pollica che in occasione della settimana della cucina italiana nel mondo ha organizzato al Palazzo di Vetro di New York un evento con il Future Food Institute in collaborazione con l'UNESCO. Nel corso della conferenza l'ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente alle Nazioni Unite, ha sottolineato come la dieta mediterranea è un esempio tangibile di una forza trainante per lo sviluppo sostenibile. La dieta mediterranea che non è unicamente cibo ma è cultura, identità, civiltà, è parte del patrimonio mondiale e culturale dell'UNESCO riconosciuto come Italia nel 2013. E' quindi un patrimonio che abbiamo il dovere di promuovere ma anche di difendere. E' stato poi il primo cittadino del comune cilentano Stefano Pisani a ribadire l'importanza dello stile mediterraneo, quale modello di vita sano e sostenibile. Abbiamo potuto raccontare come la dieta mediterranea può e deve essere un modello di sviluppo del futuro, non solo quindi più un patrimonio da preservare ma soprattutto da utilizzare per il futuro con le nuove generazioni grazie alla capacità di essere uno stile di vita sostenibile. A guidare la delegazione italiana la presidente del Future Food Institute Sara Roversi. Qui oggi abbiamo messo in luce quelle che sono le opportunità generate da questo framework, è un framework culturale che al suo interno ci racconta quelli che sono i punti dal quale partire per creare veramente modelli di sviluppo sostenibile per le comunità. Nel pomeriggio poi, prima di rientrare in Italia, la piantumazione nell'orto scolastico dei semi della dieta mediterranea ed un convivio presso la Community School 55 nel Bronx dove Stefan Ritz ha dato vita a Green Bronx Machine.